allora per realizzare i nostri calzini abbiamo bisogno di due gomitoli della fabel io ho solo l'etichetta adesso perché l'ho utilizzata tutta ma comunque è la fabbele della drops il numero che io ho utilizzato è il 340 eccolo qui poi ho usato un ferro circolare con un cavetto da 30 centimetri se voi volete potete anche utilizzare un cavetto più lungo le punte suggerite sulla fascetta sono del numero 3 le punte dei ferri io ho utilizzato un 275 punte sharp della iaia per me è più comodo quando lavoro questo tipo di filato nel tutorial trovate tutto passo passo l'unica cosa che volevo dirvi è che questo è un numero 40 per cui non è adattabile poi visto che ha delle is qui davanti anche in autonomia a farlo più piccolo ovvio che se voi siete in grado poi di rifare tutti i calcoli vi potete fare i calcoli e magari fare un piccolo campioncino cambiare la misura farlo più piccolo e andare poi a rielaborare tutto il pizzo che c'è qui davanti nel mio blog quindi io l'ho trovato il link qui sotto presto non so se subito con la pubblicazione del video o tra qualche giorno troverete tutte le istruzioni scritte passo passo quindi mi sto impegnando a farvi proprio tutta la tutto il pattern è scritto ovviamente mi scuso se ci saranno degli errori mi scuso anche se durante il video ci saranno delle imprecisioni io cerco di scrivere veramente tutto e magari scrivervi dettagliatamente le misure anche se tutti i passaggi sono ben visibili dal proprio da tutto il tutorial adesso vi lascio al tutorial spero che vi piaccia e ci vediamo presto ciao allora facciamo un nodo un cappiolino lo andiamo ad infilare all'interno di un ferro questo modo senza tirare troppo e andiamo ad accoppiare tutti e due i ferri tenendo il nodino nel ferro sottostante prendiamo la codina che abbiamo del nostro lavoro e la teniamo in mano in modo da non confonderci adesso dobbiamo iniziare con 20 maglie su ciascun ferro quindi andrò a rotolare il filato 20 volte su entrambi i ferri in questo modo iniziando dall'esterno e contando quindi 1 2 3 4 ho rotolato per 20 volte il mio filato su entrambi i ferri con l'indice cerco di tenere il filo del lavoro vado a sfilare il ferro sottostante ed inizio a lavorare i cappiolini del ferro sopra formando 20 maglie in questo modo quindi entro all'interno del cappiolino e vado a lavorare l'unica raccomandazione che mi sento di fare di non lavorare in modo troppo stretto perché potrebbe succedere che poi non scorra bene sui ferri ecco perché vi raccomandavo un un cavetto sottile e abbastanza flessibile non di quelli duri che mi renderebbero solo difficile e macchinoso un lavoro davvero semplice io adesso lavoro tutti i miei cappiolini così entrando in questo modo e questi devono essere 20 poi li andremo a contare dopo semmai ecco qui ho l'ultimo adesso tiro il mio cavetto e porto il ferro pareggiandolo con l'altro nonostante io raccomandi di lavorare con una giusta tensione sono quella che poi la tensione proprio la tensione non è il mio forte purtroppo ho questa mano che tende a tirare tantissimo adesso una volta che abbiamo abbiamo lavorato la prima parte abbiamo il filato che arriva sul ferro sottostante e andiamo a lavorare i punti sopra i cappiolini sopra allo stesso modo quindi cercando sempre di non confondere la codina tiriamo il filo da sotto qui abbiamo il nodino il nostro cappiolino come primo punto e lo andiamo a far scivolare perché questo qui non si lavora fa sempre parte della la nostra codina e adesso andremo a lavorare i cappiolini sopra allo stesso modo 3 4 5 li diamo lavoriamo tutti sino alla fine e ci vediamo poi alla fine ho lavorato anche questo ferro fino alla fine vado a riportarmi di nuovo a pareggiare tutte e due i ferri in questo modo e adesso inizio con gli aumenti quindi l'attenzione che dobbiamo prestare maggiormente è che il filato del il filo del lavoro sia sempre sul ferro sottostante per questi primi giri è molto importante non confondersi quindi abbiamo il filato che arriva da sotto vado a sfilare il ferro e con questo ferro andiamo a lavorare i punti del ferro che abbiamo sopra quindi adesso iniziamo con gli aumenti gli aumenti verranno fatti all'inizio alla fine del ferro dopo la prima dopo la prima maglia e prima dell'ultima maglia e gli aumenti vengono fatti con un gettato quindi noi andremo a fare un dritto un gettato e adesso andremo a lavorare sino alla fine quindi fino alla penultima maglia sono arrivata all'ultima maglia quindi ho lavorato la penultima maglia faccio un gettato e lavoro l'ultima maglia ho terminato di lavorare i punti che ho su questo ferro quindi allo stesso modo tiro sempre il cavetto riporto il cavetto e il ferro impari con l'altro ferro il filo arriva da sotto vado a fare la stessa cosa con le maglie che sono sopra quindi ad aumentare dopo la prima maglia e prima dell'ultima quindi sfilo il cavetto da sotto entro nella prima maglia ed inizio a lavorare quindi lavoro una maglia faccio un gettato e lavoro sino alla penultima maglia allora per arrivare a 68 maglie totali noi dovremmo fare 7 giri di aumento 7 giri di aumenti equivalgono a 14 giri in totale perché abbiamo detto che gli aumenti andranno alternati io comunque come al solito vi lascio tutto scritto quindi un giro si aumenta il secondo il giro successivo l'aumento si lavora a dritto ritorto si fa di nuovo l'aumento si lavora a dritto ritorto sino ad avere 68 maglie sul ferro e quindi questo per 14 righe per cui alla fine delle della mia punta poi andremo a vedere come proseguire avremo bisogno di due marca punto in modo che ci andiamo a delimitare tutta la tutte le maglie che andranno ad accogliere il nostro punto pizzo e possiamo iniziare quindi pareggiamo sempre il lavoro in questo modo il filo che arriva dal gomitolo sulle sul ferro esterno tiriamo il ferro esterno e andiamo a lavorare due maglie al dritto quindi una e due andiamo a mettere il nostro marca punto e facciamo una maglia al rovescio riportiamo il filo sul dritto lavoriamo due maglie al rovescio scusate al dritto quindi due maglie al dritto lavoriamo un gettato quindi passiamo il filo sul ferro lavoriamo una maglia al dritto e andremo a prendere queste due maglie quindi con il passa passa lavora quindi passiamo una maglia sul ferro una maglia sull'altro ferro le riprendiamo entrambe così che le andiamo a lavorare tutte e due assieme e adesso un rovescio ripetiamo questa sequenza quindi due maglie al dritto un gettato una maglia al dritto passa passa riprendo con l'altro ferro e l'altro ferro e le vado a lavorare assieme e faccio nuovamente una maglia al rovescio due maglie al dritto un gettato una maglia al dritto passa passa e lavora una maglia al rovescio di nuovo due maglie al dritto un gettato una maglia al dritto e passiamo queste due maglie e andiamo a fare un altro rovescio fatto il nostro rovescio andiamo a mettere il marca punto e facciamo le ultime due maglie al dritto una e due questa sarà la ripetizione terminata la prima ripetizione ruotiamo il lavoro per lavorare sempre con la tecnica del magic club prendiamo il nostro ferro e andiamo a lavorare la parte quella sottostante del calzino tutta al dritto e lavoriamo fino alla fine ho terminato anche l'altra parte quindi questa parte la parte sottostante adesso sono al secondo giro del mio lace davanti e non devo fare altro che lavorare tutto al dritto tranne le maglie a rovescio quindi le prime due sono del corpo del calzino passo il mio marca punto qui ho la prima maglia quindi a rovescio che vado a lavorare a rovescio 1 2 3 4 5 e di nuovo il rovescio 1 2 3 4 5 e di nuovo il rovescio le ripetizioni del punto che sono come delle piccole treccioline sono intervallate da questo punto a rovescio per cui questo sarà un punto che si ripeterà sempre ad ogni giro andremo solo a cambiare poi la lavorazione degli altri cinque punti quindi per il secondo giro si lavora il rovescio sul rovescio e i cinque punti tutti al dritto 5 lavoriamo il rovescio e andiamo a lavorare gli ultimi due punti del corpo del calzino quindi siamo al secondo giro mettiamo nuovamente impari i ferri ruotiamo il lavoro e facciamo il secondo giro anche qui sul retro quindi su questa parte lavoreremo sempre al dritto su questa parte invece andremo a lavorare in questa porzione intervallata dai marca punto che uno adesso mi è scappato questa porzione intervallata dai marca punto l'andremo a lavorare seguendo lo schema che io comunque poi vi scrivo quindi adesso faccio quest'altra porzione di lavoro e ci ritroviamo al terzo giro del lace per questo terzo giro adesso andremo a lavorare sulla parte il lace quindi facciamo le prime due maglie al dritto che sono del corpo del calzino il rovescio passiamo il marca punto il rovescio sempre come rovescio le prime riportiamo il filo sul dritto le prime due maglie le lavoriamo assieme quindi due maglie assieme un diritto un gettato e due dritti questa sarà la ripetizione qui abbiamo nuovamente il rovescio facciamo il rovescio e ricominciamo due maglie assieme al dritto un diritto un metий un gettato due maglie asieme al dritto ungetto un gettato e due dritti facciamo un altro rovescio due maglie assieme al dritto un diritto un gettato e due maglie assieme al dritto abbiamo l'ultima ripetizione quindi facciamo un rovescio abbiamo fatto il rovescio quindi adesso due maglie assieme al dritto un dritto un gettato e due maglie al dritto abbiamo l'ultimo punto rovescio che ci chiude tutta la nostra lavorazione davanti ora io rimetto il mio marca punto perché mi era caduto nel giro precedente faccio i due punti al dritto del corpo del calzino riporto impari i miei ferri e vado a lavorare la parte della suola del calzino ho lavorato l'ultima la parte della suola del calzino adesso vado a fare l'ultimo giro del mio lace perché è una ripetizione di quattro giri e non faccio altro che ripetere il secondo giro quindi lavoro rovescio sul rovescio lavoro le prime due maglie che sono le prime due maglie della parte del calzino quindi del corpo passo il marca punto lavoro il mio rovescio quello che incontro che a rovescio e vado a lavorare tutte le maglie al dritto quindi 1 2 3 4 e 5 lavoro nuovamente il rovescio sul rovescio e tutto il resto tutto al dritto sino ad arrivare all'altro rovescio questi quattro giri saranno l'intera ripetizione di tutta la lavorazione di queste 64 scusate 32 maglie allora tutta la lavorazione si fa su l'esatta metà del calzino quindi si lavorano due maglie del corpo del calzino si lavorano le 30 maglie di tutto il pizzo e le due maglie del corpo del calzino questa ripetizione andrà avanti sino alla fine prima di fare la molla ora lo vediamo assieme il bordo del calzino quindi è una ripetizione di quattro ferri che già alla terza la quarta volta si memorizza facilmente ed è davvero molto molto semplice quindi passo il marca punto e vado a lavorare le due maglie del corpo ed ho terminato la mia prima ripetizione ora lavoro la parte retro e poi riprendo nuovamente dal primo rigo quindi questa ripetizione andrà fatta sempre questi questa ripetizione di quattro ferri andrà fatta sempre fino a raggiungere la lunghezza che adesso andremo a vedere assieme io prendo adesso il mio calzino io devo andare a misurare in centimetri sapete che non vi do il numero di righe che io ho fatto perché la mia mano è sempre differente dalla vostra per cui i vostri ragionamenti devono essere sempre in centimetri quindi io ho iniziato il mio lace da questa parte quindi proprio al termine della formazione della punta metto il metro qui da questa parte e arrivo all'inizio della formazione del tallone perché una volta che arriviamo qui poi dobbiamo fermarci e andare a lavorare il nostro tallone quindi andrò a lavorare tutto questo queste questa ripetizione di quattro ferri per circa 14 centimetri quindi facciamo per 14 centimetri questa lavorazione tubolare 14 centimetri però attenzione misurando dall'inizio della lavorazione arrivando a 14 centimetri non consideriamo non considerate la punta dovete considerare 14 centimetri da qui quindi dall'inizio 14 centimetri ci fermiamo arrivati lì poi facciamo il nostro tallone sono arrivato ai miei 14 centimetri non tolgo in marca punto dal dalla parte davanti adesso andremo a lavorare solo la parte retro ovvero andremo a fare una serie di ferri accorciati in questo caso io utilizzerò il metodo alla tedesca in modo da formare il nostro tallone come ho detto anche in altre occasioni in cui vi mostravo come si realizzavano i calzini la punta del nostro calzino deve essere esattamente uguale al nostro tallone e infatti se noi vediamo se io adesso accoppio il tallone già fatto da questa parte prendo il mio tallone lo piego a metà e lo accoppio sulla punta vediamo che sono esattamente identici quindi questo ci fa capire che si lavora avendo qui 20 maglie al centro dei ferri accorciati che sono questi ovviamente questa è la misura che io vi sto dando io non ho preso misure su un piede ho fatto solo la lunghezza numero 40 tutto il resto è rimasto invariato se voi avete necessità di poi di un tallone più largo o più stretto con i ferri accorciati potete aumentare o ridurre a seconda della della necessità quindi vi dicevo il conto adesso per lavorare sui ferri accorciati non è difficile è sufficientemente intuitivo nel senso che se noi abbiamo iniziato con 20 punti su ogni ferro quindi che poi sono andati a doppiare formando il nostro tubolare e abbiamo qui 20 maglie allo stesso modo dovremmo andare a lavorare sui lati sulla totalità della nostra metà che sono 34 maglie dobbiamo andare a togliere 20 maglie quindi su 14 maglie togliendo le 20 maglie centrali avremo 14 maglie rimanenti queste 14 maglie rimanenti andranno suddivise per i lati del nostro tallone quindi saranno 7 maglie da questa parte da lavorare a ferri accorciati e 7 maglie dall'altra quindi questo è uno spunto nel caso in cui voi vorreste realizzare lo stesso calzino senza questa lavorazione davanti magari facendolo tutto a maglia rasata facendolo più stretto perché magari 68 maglie per voi sono troppe e quindi poi allo stesso modo con il ragionamento che io vi ho indicato potete andare a calcolare quante maglie dovete lavorare a ferri accorciati per la forma del tallone che saranno esattamente quelle iniziali della punta ora dopo questa premessa noi abbiamo detto che qui sulla questa è la parte sottostante del calzino su queste 34 maglie noi dovremo andare a lavorare i nostri ferri accorciati a destra e a sinistra quindi prima raccomandazione contate bene le maglie che siano 34 perché se sono in più o in meno la vestibilità poi non sarà corretta abbiamo terminato questo giro io ho fatto attenzione a ultimare la i 4 ferri della lavorazione in modo che poi ricomincio direttamente una volta riprese le maglie dal primo ferro replicando sempre i quattro fino alla fine quindi siamo arrivati a questo punto da adesso in avanti andremo a lavorare solo su questa porzione quindi la prima cosa da fare è contare sette maglie munitevi di due marca punto in modo che le andiamo a piazzare adesso subito e non avremo poi difficoltà in seguito quindi ora conto sette maglie dall'inizio le lavoro ovviamente 1 2 3 4 5 6 e 7 qui o pena eccoci e 7 a questo punto io vado a mettere il mio marca punto conto adesso 20 maglie le lavoro tutte normalmente quindi ho suddiviso il mio lavoro in questo modo ho messo un marca punto dopo le prime sette maglie ho lavorato 20 maglie ho rimesso il secondo marca punto ed ho lavorato altre sette maglie quindi sulle 34 maglie ci sono due marca punto questi sette punti sia da sinistra che a destra andranno lavorati a ferri accorciati alla tedesca quindi adesso giro il mio lavoro vado a lavorare adesso solo su questa porzione di lavoro prendo il ferro ed inizio subito dalla prima maglia e faccio in questo modo passo la prima maglia sul ferro prendendola a rovescio tiro il filo facendo formare due occhielli mi aiuto magari con il pollice ripasso il filo in posizione di lavoro perché sto lavorando sul rovescio e faccio tutta la porzione a rovescio per come si presenti il lavoro arrivando sino all'ultima maglia dell'altra estremità solo di questa porzione ho lavorato fino all'ultima maglia giro il lavoro e faccio la stessa cosa su questa maglia adesso io sono sul dritto la maglia la prima maglia che dovrò lavorare a ferri accorciati la vado a prendere come se la dovessi lavorare al rovescio quindi la passo sul ferro senza lavorarla tiro nuovamente il filo quindi il filato verso e avanti e riprendo la mia lavorazione al dritto in modo che la mia prima maglia ha formato due cappiolini vedete queste non sono due maglie ma è da considerare una maglia arrivo così sino a raggiungere la maglia che precede la prima maglia scusate il gioco di parole che ho lasciato in sospeso quindi arrivo alla penultima maglia ovviamente io i marca punto in questo caso li sto scavallando nel senso che non ne tengo conto questi mi serviranno per capire fino a dove devo andare a lavorare a ferri accorciati quindi le sette maglie da una parte e dall'altra sono arrivata a questo punto ho i due cappiolini che formano la prima maglia che io ho lasciato in sospeso l'ultima maglia cioè quindi la maglia che precede quella con i ferri accorciati con la maglia sospesa scusate quindi adesso lavoro l'ultima maglia al dritto questi due cappiolini che sarebbero la mia prima maglia sospesa non li lavoro volto completamente il lavoro e vado a sospendere anche la seconda maglia adesso mi trovo sul rovescio quindi prendo la maglia sul rovescio in questo modo tiro il mio filo vedete come si formano due cappiolini riporto il filo dall'altra parte perché sto lavorando il rovescio e vado avanti e farò la stessa cosa sull'altro lato ora lo vediamo assieme un'altra volta e poi possiamo continuare in autonomia sino a raggiungere i marca punto quindi sino a raggiungere le sette maglie sia sul lato che sull'altro sono arrivato a questo punto quindi adesso vado a lavorare l'ultima maglia la prima è quella che ho sospeso al giro precedente ruoto nuovamente il lavoro questa maglia la prendo con il filo davanti e la prendo come se la dovessi lavorare al rovescio in questo modo tiro il mio filo e faccio formare i due cappiolini come la maglia precedente e torno sull'altra estremità quindi questo adesso è di facile intuizione perché uno abbiamo il marca punto e due non dobbiamo far altro che fare questo lavoro avanti indietro fin quando non avremo esaurito tutte le ma le maglie delimitate dal marca punto che sono 7 per cui una volta che abbiamo terminato questo lavoro lasciando sempre in sospeso quelle che stiamo doppiando tra virgolette una volta che siamo arrivati a quel punto poi cambieremo nuovamente direzione al lavoro perché così stiamo lavorando tutto il tallo una porzione del tallone quindi i due lati le due estremità e stiamo facendo crescere solo la parte che deve incurvarsi quindi che deve andare a cogliere il tallone ecco sono arrivata al marca punto un'altra volta adesso lo vediamo per l'ultima volta e poi continuiamo in autonomia qui adesso io avrò devo guardare devo prestare attenzione avrò una e due maglie che ho già sospeso quindi questa è una maglia che sola la vado a lavorare volto il lavoro questa maglia sempre dal rovescio la passo sul ferro destro tiro leggermente e porto il filato in posizione di lavoro sul rovescio ecco che ho tre maglie in sospeso quindi facciamo così fino ad arrivare a tutte e due marca punto io ho terminato tutte e due tutti i miei giri quindi ho sul lato le sette maglie con i due con i due cappiolini e sull'altro lato le sette maglie con i due cappiolini quindi ho terminato l'ultima maglia ho sospeso l'ultima maglia da questa parte ho lavorato nuovamente sul rovescio tutta la parte centrale del tallone adesso arrivando a questo punto quindi ritornando indietro semplicemente non faccio altro che andare a lavorare l'apri l'ultima maglia che ho sospeso lavorandola con tutte e due i cappiolini quindi li vado a prendere entrambe li lavoro sul rovescio perché siamo sul rovescio e giro il lavoro quindi allo stesso modo nel quale le osso spese adesso le vado a lavorare ma una alla volta quindi adesso ho sospeso ho lavorato la prima maglia la porto sul ferro di sinistra sì di destra e lavoro fino a raggiungere l'inizio delle mie maglie sospese io per praticità ho tolto comunque marca punto perché una volta che arrivo dall'altro lato quindi sull'altra estremità è ben visibile la maglia che ha i due occhielli piuttosto che una maglia normale quindi mi sono assicurata di aver lavorato tutte e sette le maglie da una parte dall'altra e ora non farò altro che andarle a lavorare una alla volta in questo modo quindi sul rovescio lavorando le normalmente al rovescio e sul dritto lavorando le al dritto anche da questa parte ne ho una due tre quattro 5 6 e 7 quindi questi due cappiolini ora vedete come sono i due cappiolini e non faccio altro che entrare all'interno con il ferro e andarle a lavorare tutte e due assieme cerco di tirare leggermente il filo perché altrimenti si formano quei buchini inestetici che danno poi visibilmente danno fastidio giro il mio lavoro questa maglia la riporto sul ferro di sinistra a questo punto sul ferro di destra scusate a questo punto non devo far formare nessun occhiello perché è una maglia che va semplicemente sospesa e proseguo così quindi adesso arrivo semplicemente sull'altro lato e vado a fare la stessa cosa quindi la lavoro al rovescio ora lo facciamo un'altra volta assieme poi possiamo autonomamente finire la seconda parte del tallone sono dei giri che si ripetono e vanno solo a cambiare orientamento a tutta la lavorazione perché si lavora una porzione poi si lavora l'altra quindi la porzione che avrà più più lavoro più area rispetto al tallone sarà quella centrale quella dove noi stiamo lavorando le 20 maglie che stiamo lavorando normalmente quindi adesso arrivo ecco mi sono arrivata al questa è la maglia che ho lavorato prima quindi la lavoro normalmente questa è la seconda maglia che si presenta sul rovescio e si presenta così vedete i due cappiolini quindi o entro con il ferro li aggancio entrambe e lì lavoro al rovescio giro tutto il mio lavoro passo questa maglia sul ferro di destra quella appena lavorata e continuo sino all'altra estremità ora quando noi incontriamo le maglie che abbiamo appena lavorato quelle delle che fanno le maglie che fanno parte delle sette maglie che avevamo lasciati in sospeso dobbiamo fare un po attenzione di attenzione e andare a lavorare con una tensione un pochino più decisa proprio per dare stabilità tra virgolette a quella parte di lavoro io non ho questo problema perché lavoro molto stretto ma allora questa è la prima maglia ed è visibile comunque quindi la andiamo a lavorare normalmente le prime due maglie che abbiamo sospeso qui ci troviamo un'altra maglia con i due cappiolini quindi entriamo all'interno facciamo un dritto perché siamo sul dritto a questo punto tiriamo un poco proprio leggermente in modo che la maglia si fermi bene quindi la riporto sull'altro ferro e continuo la mia lavorazione questo lo andrò a fare lo andremo a fare sino all'ultima maglia quindi sino a questa maglia qua avanti e indietro sono arrivata l'ultima maglia quindi adesso la lavoro normalmente prendo tutte e due cappiolini e formo la mia maglia a questo punto io posso ripartire con il mio lavoro in circolare perché ho formato il tallone quindi ora andrò a dividere nuovamente le mie maglie su due ferri e andrò a riprendere la lavorazione sul pizzo per dove l'ho lasciata ovviamente a destra a sinistra ora noi avremo dei piccoli spazi che andremo a correggere nel giro successivo quindi ora lavoriamo la parte che abbiamo lasciato in sospeso quindi questa con il pizzo facciamo il primo giro arrivati a questo punto continuiamo al secondo giro andremo a correggere a destra a sinistra cioè noi adesso faremo un giro completo per andare a riunire nuovamente tutto il lavoro in circolare poi io questo personalmente lo faccio nel giro successivo vado a riprendere due maglie all'interno del della lavorazione in modo che chiudo quel buchino antiestetico che si forma a destra a sinistra quindi adesso lavoriamo tutto questo giro lavoriamo nuovamente il tallone riprendiamo il lavoro sulle due maglie iniziali da qui e poi vi faccio vedere da questa parte come andare a chiudere il buchino una volta che ho ripreso la lavorazione in tondo quindi sono andata a chiudere sia da una parte che dall'altra mi rendo conto che qui ho un punto che è leggermente non leggermente molto largo quindi la congiunzione tra una parte e l'altra dopo il tallone e inevitabilmente vuoi per il lavoro e vuoi anche per dei punti in più nel retro del lavoro forma un piccolo buchino io procedo in questo modo prima chiudo quindi faccio il primo giro per intero unendo tutte e due le estremità poi sul rovescio del lavoro vado a prendere la seconda maglia io adesso lo faccio con un ago perché altrimenti facendolo con il ferro andrei a coprire e non riuscireste a vedere nulla quindi non prendo questo neppure questo occhiello di filato né queste né questo il terzo quindi prendo il terzo da sotto lo porto sulla parte retro quindi sul ferro che ho sulla sinistra che devo andare a lavorare riprendo la mia lavorazione e questi due punti li lavoro assieme in modo che vado a fermare per bene tutta la circonferenza da questa parte il forellino e meno evidente però faccio comunque la stessa cosa anche per sicurezza qui le maglie si presentano in modo diverso quindi vado a prendere una maglia la prima che riesca la prima utile che mi che riesco a a tirar su quindi l'interno si presenta in questo modo io adesso prendo questa maglia la porto sul ferro di sinistra e la vado a lavorare assieme in modo che ho chiuso perfettamente tutto la mia lavorazione in circolare ora posso riprendere a lavorare il calzino in maniera circolare adesso lo porto su tutto il ferro per farvi vedere fin dove siamo arrivati a questo punto quindi qui avrò il mio tallone qui l'altro lato adesso qui sul davanti devo andare a continuare tutta la mia parte in pizzo poco importa se io avrò 30 maglie su un ferro piuttosto che 28 cioè noi adesso potremo andare a lavorare come vogliamo per praticità io comunque divido sempre a metà e cerco di portare tutti i punti che ho della lavorazione su un unico ferro in modo che ho la continuità del lavoro e non devo starli a passare da un ferro all'altro poi questa è una questione di pratici praticità quindi noi siamo arrivati adesso a questo punto quindi abbiamo chiuso il tallone abbiamo finito il tallone io ho lavorato per 12 centimetri il gambaletto ho chiuso con una molla di due maglie al dritto e 2 al rovescio di 4 centimetri ed ho chiuso con la chiusura elastica ora voi potete anche lavorare un pochino più di 12 centimetri o magari lavorare subito questa costa 2 a 2 o 1 a 1 come preferite e fare anche un piccolissimo calzino questo è a vostra discrezione sappiate comunque che io da 12 da ho fatto 12 centimetri di gambaletto 4 centimetri di molla mi è avanzato diverso filato avrei potuto fare addirittura 16 centimetri di gambale quindi il filato è veramente abbondante nonostante questo sia un numero 40 per cui adesso faccio sul mio secondo calzino i 12 centimetri più i 4 centimetri di gambaletto e poi andiamo a vedere come dobbiamo fare la chiusura elastica terminati i centimetri del gambale adesso possiamo andare a fare il nostro porto e nel mio caso io ho fatto un bordo a coste 22 per due quindi due maglie al dritto e 2 a rovescio il mio bordo è di 4 centimetri voi potete farlo più alto oppure un tantino più basso non troppo più basso altrimenti poi la tenuta non è la stessa di un bordo almeno superiore ai tre ai tre centimetri io vi consiglio più alto sì più più basso no anche se so che l'ultima parte per me personalmente molto noiosa adesso io vado a fare il mio bordino sul su questo calzino quindi faccio i miei quattro centimetri e ci vediamo per la chiusura finale sono arrivata al termine della mia della molla del calzino quindi ho fatto i centimetri che vi ho indicato i quattro centimetri ora vado a chiudere e chiuderò con una chiusura elastica se volete vi potete aiutare magari con un ferro con un ferro ausiliario quindi come faccio io prendo un altro adesso a portata di mano questo circolare ma va bene anche un ferro lineare di quelli corti e chiude in questo modo lavoro una maglia al dritto un'altra maglia al dritto e a cavallo le due maglie nel lavoro altre due quindi chiudo un'altra e ne chiude un'altra e ne ho chiuse quattro in questo modo adesso faccio un gettato e passo questa maglia sopra al gettato ora ve lo faccio rivedere allora lavoro una maglia e la cavallo lavoro la seconda maglia e la cavallo siamo a 2 3 e 4 quindi 4 con una chiusura normale come se chiudessimo un lavoro normale adesso faccio un gettato quindi getto il ferro il filo sul ferro e passo questa maglia sul gettato quindi ogni quattro maglio ho fatto anche la quarta ogni quattro maglie io farò un gettato riprenderò la maglia che avevo sul ferro la passerò sul gettato e così continuo fino alla fine ho terminato la molla del mio calzino adesso taglio il filo infilo in un ago e vado a fermare la codina quindi rientro nel punto senza tirare troppo cerco di entrare nel primo punto in modo da fare una chiusura pulita così quindi entro da questa parte rientro nell'altro punto non tiro non faccio nessun nodo a questa altezza ma lo faccio subito sotto quindi poi andrò a fermare la codina come meglio riesco passo all'interno di alcune maglie io solitamente faccio così sdoppio il filo faccio un paio di nodini belli stretti e taglio queste due codine non troppo corte perché questo filato ha della lana e quindi nel lavaggio poi si infiltrerà e quindi abbiamo terminato il nostro calzino video lunghissimo mi dispiace ma per farvi vedere tutti i passaggi per bene era doveroso ora vedete se vi resta un po ondulato il bordo non preoccupatevi perché dopo il lavaggio adesso vi faccio vedere questo io l'ho già lavato e l'ho messo qui in blocco il calzino tornerà perfettamente dritto cioè questa parte tornerà perfettamente dritta non avrete nessun tipo di problema quindi vedete la differenza del calzino non non bloccato e del calzino bloccato per chi dice che il bloccaggio non serve vi assicuro che qualcosa di indispensabile per alcuni lavori detto questo spero di essere stata utile a qualcuno con questo mio video se vi è piaciuto e mi lasciato un like aiutate comunque anche con il canale se avete qualche domanda mi commentate sotto se qualcosa non è stata chiara me la potete chiedere tranquillamente faccio un video dedicato anche solo per una sola parte se ho mancato qualche pezzo ho faticato un po a girare questo video perché ho avuto diversi problemi di proprio tecnici per cui ho dovuto farlo più di una volta alcuni passaggi li ho dovuti ripetere quindi spero di non risulti che non risulti noioso e troppo lungo e troppo macchinoso io ho cercato veramente di essere più chiara il più veloce possibile anche se è qualcosa di insomma un po complesso che porta via un po di tempo proprio la realizzazione ogni pezzo del calzino in sé se volete ci sono qui sotto nell'info box i miei canali quindi dove potete trovarmi ci vediamo alla prossima ciao